Si temeva il grande caldo, fa caldo certamente, però è una situazione sopportabile, ma cambierà qualcosa in questi giorni? Noi siamo stati abbastanza fortunati, come dico sempre a noi ci salva il nostro amico Maestrale e così effettivamente è stata. Gran caldo al centro di Nord Italia, noi siamo stati favoriti dalla discesa di aree più fresca dei Balcani che praticamente con il vento di Maestrale ha fatto sì che la nostra regione fosse abbastanza ventilata e di conseguenza temperature che non hanno superato e non supereranno almeno fino a domani i 33-34 gradi abbastanza sopportabili. Un po' sta aumentando il tasso di umidità anche perché sta calando questo vento da quadrante settentrionale e arriverà purtroppo il vento di Cirocco. Questo significa, guardando anche soprattutto al fine settimana e poi ai prossimi giorni, che cosa ci ritroveremo davanti? Il vento di Cirocco vuol dire che le condizioni meteorologiche stanno cambiando. Si sta organizzando una grande perturbazione atlantica che proverrà dalla Francia. Il tutto sarà anticipato da questo vento di Cirocco e questa volta il caldo arriverà anche a temperature lette e termometri tra 36 e 38 gradi è incapitanata nel Salento, aumenta il tasso di umidità e poi finalmente qualche acquazzone o la perturbazione principale ci interesserà tra lunedì e martedì con l'abbattimento termico finalmente e temperatura anche di 10 gradi meno, quindi non più 36-38 ma avremo 28-29 a partire dalla tarda mattinata di martedì prossimo venturo.